Gli incompresi, gli esclusi, i soliti, gli irreprensibili, quelli che sfuggono alle logiche del pensiero comune, che hanno imboccato la via della gloria, ma contro mano, i giocatori di culto, i... Maledetti! Royce Alexander White Che giocatore, che giocatore incredibile classe 1991, 31 anni oggi di talento e potenziale ma proprio assoluti, cioè cristallini volati via, così, come se niente fosse, e mai Verbo fu più azzeccato di questo, nello specifico poi magari ci torniamo sul discorso del volare, no? Che vi devo dire ragazzi, è uno di quei giocatori che a me proprio mi sta in cuore, io ai tempi ci avevo preso una tramvata in viso che manca un blocco di Gary Trent Babbo, e quindi non lo so, per farci un video mi sono chiesto, Edo, ma se tu dovessi raccontare, se tu dovessi spiegarlo a uno che magari non l'ha mai visto giocare, che non l'ha mai sentito parlare, c'è un qualcosa, un episodio, un dato, qualsiasi cosa che possa provare a esemplificare un carattere, un personaggio così tanto sfaccentato e variegato come Royce White, uno solo c'è, e forse l'ho trovato, è un dato statistico che riguarda la stagione 2011-2012, NCAA, la maglia è quella di Iowa State. Tra i tanti numeri che mette insieme, perché d'abitudine su un campo da pallacanestro, era uno di quelli che riempiva il foglio delle statistiche, come Anthony Davis riempie quello dell'Injury Report, per capirsi un attimo il livello, no? Tra i tanti numeri ce n'era uno, secondo me particolarmente significativo, 65% abbondante al tiro su azione dal midrange, quindi quella posizione di campo, su azione, con l'uomo addosso marcato 65%, 49% scarso, scarso dalla lunetta, per cui praticamente stessa porzione di campo, però a gioco fermo, senza l'uomo addosso, senza nessuno che ti potesse dare noia. Nessuno tranne la testa. Passo indietro, 2001, Royce White ha 10 anni, ha appena finito l'allenamento e ingaggia una sfida, no? Singarella, con un suo compagno di squadra. La sfida è a chi riesce a completare per primo un suicidio. Ora, chi è di voi ha giocato a pallacanestro sa benissimo che cosa si tratta, no? Il suicidio è quell'esercizio di sola corsa in cui te devi correre e toccare tutte le varie linee del campo e tutte le volte tornare indietro, anche del campo di pallavolo per eventuali più minors di voi all'ascolto, no? Abituati alle palle stracce dove andavo io. E uguale. Tutte le linee di attoccare. Suicidio, tra l'altro, anche in questo caso, nome particolarmente azzeccato. E chiaramente ci scherzo perché poi la vicenda fortunatamente si è conclusa bene. Il compagno con il quale singarella il buon Royce White si chiama Ladrim Yarbro, dove Yarbro è il cognome non del babbo, ma della mamma, perché il babbo è rimasto da sempre ignoso. Anche se Ladrim, io qualche dubbio, no? Cioè, una mezza illazione potrei anche provare. Lasciamo aperto. Comunque, i due cominciano a correre. Finito praticamente i primi tre metri, quattro metri di campo o di corsa, è il compagno di squadra di Royce White si accascia a terra e non si muove più. Vengono immediatamente chiamati i soccorsi, l'ambulanza, nella quale sale anche Royce White, lo portano d'urgenza all'ospedale, lo operano, gli salvano la vita e non avrà conseguenze. Ma da quel momento lì, vuoi per lo shock del momento, vuoi perché chiaramente non se l'aspettava, a voi per i sensi di colpa, anche di averlo sfidato, Royce White rimane particolarmente colpito e la sua battaglia personale con le problematiche di salute mentale inizia quel giorno, in quel momento, e a oggi non è ancora finita. Questi è Trevor Mbacue. L'abbiamo visto non troppi anni fa in quel della Virtus.Roma. discreto giocatore sotto canestro, che però a questo giro ci interessa più che altro perché ai tempi di Minnesota, parlo chiaramente di College Basket, sarebbe stato, sarebbe dovuto essere compagno di squadra di Royce White. Perché sarebbe? Perché il condizionale? Perché in realtà Royce White quell'anno lì non gioca neanche mezzo, neanche una partita, perché prima ancora che inizi la stagione viene accusato di aver rubato un computer a un compagno di corso all'interno del campus. Nel mentre che Royce White è sospeso, perché si stanno svolgendo tutte le indagini, gli accertamenti che non porteranno a niente di fatto, decide di indossare uno smoking dal valore stimato di oltre 1000 euro per 1000 dollari per entrare in un negozio e rubare abbigliamento per un valore di circa una novantina di dollari. E allora, in questo caso viene ripreso dalle telecamere, quindi non ci sono dubbi. Sembra finita la storia della falla a canestro dopo questo episodio, però c'è ancora qualcuno che crede in lui. Fred Hoiberg, uno che due o tre cose di pallacanestro, tutto sommato, dovrebbe averle viste nel corso della propria carriera da giocatore prima e da allenatore poi. Lo vuole ad Iowa State perché, al di là di problematiche terze che riguardano aspetti di equilibrio psicologico e di rapporti sociali con gli altri, come giocatore di pallacanestro, è tanta roba. Perché trattasi di un 6 piedi e 8 con spiccate doti di Vleymacher, tratta la palla come tranquillo tratta normalmente Draymond Green, no? Grande difensore, probabilmente il giocatore con il più alto cui cestistico di tutta la squadra, segna, attacca il canestro, fisico, atleti, fa un po' di tutto. E infatti 13, 9 e 5 assist di media. E, parola di Fred Hoiberg, si sarà allenato forse una volta in tutto l'anno, ma proprio di tanto una volta in tutto l'anno, perché la testa è evidentemente da un'altra parte. E questa cosa spaventa. Spaventa molto le franchi NBA che all'inizio del draft 2012 lo considerano inaffidabile. E non è il solo, aggiungerei io, ma questo sapete che è una roba mia, che no, non c'entra niente. Secondo diversi addetti ai lavori, Royce White, se se ne fosse fatta una questione esclusivamente di pallacanestro, esclusivamente di giocatore, sarebbe potuto andare tranquillamente tra le prime 5 chiamate di quel draft lì. Ma per qualcuno, forse, forse, anche tra le prime 3. Io vi ricordo, per capisci, che alla 2 fu chiamato tale Michael Kidd Gilchrist. Quindi, no? Però i problemi di tenuta dal punto di vista psicologico influiscono particolarmente tanto nella sera del draft e quindi comincia a scivolare in una caduta libera che si arresta esclusivamente con la scelta numero 16, quando gli Houston Rockets, che per fassi del male sono secondi probabilmente soltanto ai titolari originariamente di quella stessa scelta numero 16, cioè i New York Knicks, decidono di scommetterci, decidono di puntare su Royce White. È inutile che vi dica che Royce White, in maglia ai Houston Rockets, non giocherà neanche un minuto, nemmeno una... niente, proprio mai. Il problema fondamentale è che ha paura di volare, ha paura dell'aereo. Questo è il tratto della personalità che, da quel momento in poi, lo rende, diciamo, suo malgrado famoso in giro per il mondo. La gente se ne ricorda per questo motivo, pensa che Royce White sia questo. In realtà, questo è solo uno dei problemi di una personalità che è complicata. È chiaro, però, che per fare un lavoro di genere non ci puoi avere la paura di volare. Cioè, nel senso, è un lavoro in cui devi prendere anche una decina di voli a settimana, non ci puoi avere la paura di volare. È come se Tommy all'antico vinaio ci avesse i trigliceri di arti, capito? Non è proprio una cosa che si sposa. E quindi inizia un via vai di cambi di maglia, a cambi di franchigia, passaggi in G-League, che all'epoca era ancora D-League, cioè la Lega di sviluppo NBA, fino a che la carriera nel massimo campionato mondiale si chiude in maglia Sacramento Kings con la bellezza di nove minuti giocati in totale. E un talento del calibro di Royce White chiude con zero punti, zero rimbalzi e zero assist la propria carriera in NBA. È finita? No. Conoscete la National Basketball League of Canada? No? Meglio per voi. Però Royce White ci va a giocare. Per colpa sua la squadra si sposta esclusivamente in autobus, però diciamo che tutto sommato ne vale la pena. 46, 21 e 12 massimi in stagione di punti, rimbalzi e assist. Fa registrare, fa segnare il record di quattro triple doppie in una Lega come la NBL di Canada, lì dove mai nessuno ne aveva fatte neanche una, e viene nominato praticamente all'unanimità MVP della regular season. E poi picchia un arbitro alla prima partita di playoff e viene espulso e radiato. Stavolta è finita per davvero. No. Lo vuole Larry Brown e io non sto più nella pelle dalla gioia e dalla contentezza e dalla soddisfazione perché Larry Brown in quel momento è appena stato nominato allenatore di Torino e gioca nella massima serie italiana e quindi lo vedremo da vicino nel campionato italiano. Un talento di genere è una... cioè per il nostro... Io non sto più nella pelle perché in Italia ti puoi anche permettere di viaggiare soltanto con i pullman. È proprio... cioè è il giocatore che ci può svoltare... cioè io dall'emozione proprio, dalla contentezza, so quasi per organizzarmi il viaggio per andare a Torino a pigliarlo in aeroporto quando arriva dagli Stati Uniti. Per andare a pigliarlo dove? In aeroporto. Per venire dagli Stati Uniti però bisogna pigliare l'aereoplano. E lui non lo piglierà mai. Torino lo aspetta per più di un mese e mezzo dalla firma di contratto. Lui non arriva e alla fine lo rescinde anche a questo giro. È rimasta solo la Big Three che per carità... cioè la Lega è quel che è dal punto di vista anche della competizione, però a me mi va bene uguale perché comunque ci sa finalmente la possibilità di rivederlo in campo. E quindi io mi ricordo, stampato proprio nella memoria, la prima notte, la prima partita di Big Three. Io ero sveglio a vedere... era il periodo dei play-off quindi comunque già il sonno scarseggiava. Ma non mi importava perché io volevo rivedere finalmente in campo a giocare a pallacanestro Royce White che tra l'altro in Big Three in quell'occasione era stata prima scelta assoluta al draft. Perché comunque la gente si rendeva ancora conto che questo qui a pallacanestro... cioè al di là di tutti i problemi, capito? E quindi c'è... 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 no? Siamo tutti lì pronti a... però finisce a cazzotti un'altra volta e viene... e viene... e viene espulso. Quanto meno picchia Josh Smith che è una cosa che anche io a suo tempo avrei voluto fare... però... e poi... no? Si scherza... si scherza... e Josh Smith... comunque questa volta con la pallacanestro è finita. E quindi... dov'è oggi Royce... che fa? Cioè chiuso un capitolo ormai che è quello del basket per troppi motivi... che cosa fa Royce White nel 2022? È sceso in campo, si direbbe, dalle nostre parti. S'è dato alla politica. L'ultima volta che l'ho visto, qualche mese fa, di sfuggita in un servizio, era intervistato ai microfoni del... New York Times, New York Post, non mi ricordo, era intervistato... e parlava delle influenze sataniste all'interno del governo degli Stati Uniti d'America. E quindi niente, io ho spento la televisione in quell'occasione lì... Però non spengerò mai il ricordo vivido, attivo, vitale, folgorante... di, probabilmente, uno dei giocatori più forti che non sia mai esistito su questo pianeta. Maledetto Royce White! Grazie a tutti!